schio che in difesa ha concesso veramente poco Masciadri, si è appena entrata, subito a mettere la tripla Masciadri, primi tre per Raffaella Masciadri schio che va a più dieci rimessa da fondocampo per schio, Anderson Masciadri ancora Anderson occasione da non fallire in una trasferta dietro l'angolo Sì, comunque una trasferta insidiosa nonostante sia vicina di territorio perché comunque giocare in trasferta già non è facile poi giocare in un campo come San Martino dove loro fanno dell'aggressività e dell'intensità difensiva e offensiva la loro arma migliore sarà dura noi come abbiamo fatto fino adesso guardiamo partito dopo partita e poi sabato alla fine della partita con Napoli guarderemo la classifica certo il risultato di ieri di Ragusa può esserci favorevole sì, certo però comunque poi i playoff bisogna giocarli sappiamo che è tutto un campionato a parte Senti, Miguel e Giustino hanno sempre speso ottime parole per San Martino un terzo posto, una squadra molto interessante da temere Ripeto, indubbiamente è la sorpresa positiva del campionato e si meritano il posto in cui sono perché comunque fin dall'inizio hanno creato hanno avuto un'identità di squadra molto più di tante altre si sono trovate molto bene le giocatrici sia vecchie che nuove, ma voglio dire credo siano quasi tutte nuove quelle che sono arrivate a San Martino quest'anno e hanno creato un grande gruppo questo credo sia indubbiamente merito del loro allenatore e naturalmente anche della loro società vabbè, terza domanda vabbè, andare sforato, ma va bene lo stesso e allora, Schia sembra a pieni giri è già a pieni giri o c'è ancora margine per aumentarli questi giri? ma non possiamo essere a pieni giri adesso nel senso che comunque non è il momento ideale nel senso che bisogna esserlo per tutti i playoff e naturalmente aprile, ecco quindi di sicuro stiamo in una forma ottimale perché comunque da quando abbiamo finito l'Eurolega abbiamo avuto la possibilità di lavorare più atleticamente, più fisicamente non solo, perché comunque abbiamo lavorato anche tanto dal punto di vista tecnico durante gli allenamenti di basket e lì l'intensità si è alzata settimana dopo settimana i risultati sono quelli che si stanno vedendo in queste partite però, insomma adesso dovremmo essere ancora 60-70% perché comunque bisogna dare il 100% da settimana prossima in avanti